Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo, per scoprire insieme a voi Football Tactics and Glory Un gioco di calcio, ma con la strategia di mezzo Cioè, è uno strategico calcistico, un mix che non avevo mai visto, sinceramente Ma che mi intrigano un poco, per cui vediamo di che si tratta Allora, parte così, con una partita in corso Finale della Coppa Nazionale, sedicesimo minuto Sei un giovane promettente attaccante L'allenatore e la squadra di tifosi si aspettano che tu segni Ma, lisce no, clamorosamente Seleziona un calciatore, clicca sulla casella contenente il giocatore che vuoi controllare Seleziona la casella di destinazione Le caselle evidenziate in verde mostrano le potenziali destinazioni delle azioni del calciatore Clicca sulla porta per effettuare un tiro in porta Ci sono otto persone davanti, però Le azioni disponibili sono visibili nella parte alta dello schermo Posso scegliere fra tiri precisi e potenti Io andrei di potente, visto che ci sono ottocento persone davanti I numeri sopra la testa del calciatore Mostrano il suo potenziale Che è otto, conto 27, 45 e 24 Ovvero la possibilità di effettuare con successo l'azione selezionata Quando aggirà il risultato effettivo verrà determinato casualmente con il risultato tra uno e il valore potenziale Si fa prima a provare, secondo me Come puoi vedere la possibilità che il tuo attaccante segna è molto bassa 8 Dovremmo cercare di passare la palla ad un compagno più preciso Ma prima dobbiamo cancellare l'azione che volevamo fare Ok E' meglio provare a tirare in porta con un giocatore che ha precisione elevata Per vedere gli attributi di un calciatore metti il cursore sopra di lui Vedrà i suoi attributi Ah ecco infatti Precisione, passaggio, difesa e controllo nella parte alta dello schermo Seleziona un compagno con elevata precisione cliccando su di lui 80 44 27 40 80 Ok Passiamogli la palla Bene La squadra può effettuare 3 azioni durante il suo turno Hai già usato un'azione e puoi effettuare altre 2 Bravissimo Dopo un infortunio sei caduto nel dimenticatoio Ma forse sei proprio quello che stavamo cercando Ho una squadra nel campionato di eccellenza e voglio farla crescere Ho quindi bisogno di un allenatore come te Di qualcuno che conosca il calcio da cima a fondo E sia disposto a lavorare con calciatori direttanti Per poterti avere a bordo sarai per sé disposti a creare una nuova squadra Che ne pensi? Se ne assuniamo una esistente Allora Campionati standard Inghilterra, Scozia, Irlanda, Germania, Francia Vabbè Italia per forza di cose In Italia benissimo Roma SC Torino SC Roma Antica SC Firenze SC Napoli SC Genova Città Genova SC Milano SC Torino Città Milano Città Palermo Sassuolo Verona Verona Empoli Io direi Di prendere Uuuuh C'è anche il Parma Aspetta Se c'è il Trapani Il Trapani viene giù tutto C'è il Trapani Fermi tutti Ma i giocatori saranno reali o no? Duca Io vado di Parma adesso Perché almeno sono un po' più conosciuti Magari c'è la speranza che abbiano fatto qualcosa Vediamo il Parma Vediamo il Parma se ci dà giocatori reali oppure no Tanto il gioco è pienamente supportato dallo Steam Workshop Per cui qualcosa dovrebbe esserci Qualora dovesse piacerci il gioco Avremo di che guardare i download scaricabili Perfetto Ora siamo di noi Riportare mentre sistemano alcune questioni legali Ti cerco un assistente e preparo il tuo luogo di lavoro Ti aspettiamo al club per luglio Quando hai un giocatore e non hai mai vinto un campionato Ma spero tu possa farlo come allenatore di questa squadra Buongiorno, sono il tuo assistente Permettimi di farti fare un giro nell'ufficio Il tasso con il logo Vabbè, fateci vedere un po' la squadra No, mi sa che i giocatori sono tutti finti Perché Dovresti modificare la formazione Secondo la squadra avversaria Vabbè Diciamo che è una sorta di Football manager incrociato con un FIFA Ti sono venuto a bordo Il presidente del club è un mio vecchio amico Mi ha parlato di te Ha visto il tuo potenziale E mi ha chiesto di aiutarti Fidati di me Forse non ho raggiunto l'apice Durante il mio periodo di manager Ma ne ho viste parecchie nella mia carriera Per tutta la mia vita Ho sempre preso appunti sui calciatori Sulle tattiche e sull'allenamento Posso condividere tutte queste mie conoscenze Con te Ti invierò la più importante di queste note Con cadenza settimanale Vabbè Grazie Se voglio voglio giocare Fatemi fare cose Allora intanto vediamo Bunci Santilli Valcareggi Frizzi Bennati Galante Materazzi Calza Spagnolo Majorana Fontanelli Barberino Andreini È secco C'è secco C'ho C'ho quattordici giocatori Perché ne ho quattordici Vabbè Diciamo che va un attimino Io giocherei con Uno schema Abbastanza noto Al Parma Ovvero questo Quattro Precisione Passaggio Difesa Controllo Livello Ed età Allora Barberino Barberino È livello 14 Ci serve un centrocampista Volendo Allenamento Bunci Portiere Forte Che bella faccia Che c'ha Bunci Vai Bunci Impara a fare Il portiere Forte Ok Andreini È un difensore In che lo Alleniamo Non si può Aggiornamenti Grandezza Stadio Costa Una marea Di so Giovanili Ogni sei mesi Scopriremo un giovane Calciatore Il suo livello Medio È 1-5 Diciamo che c'ho Un bel po' Di soldi Ogni Denaro Fama Successi Della squadra Andiamo Andiamo a farne una Giochiamola Così ci rendiamo conto È un gioco particolare Comunque Devo dire che Col manto Va Siamo in un campo De periferia De quarto ordine A giocare Oh Bravo Il portiere Ha parato E gli ha dato Un più 8 Una parata In un calcio d'angolo Due difensori Devono cercare Di spingere Il calciatore avversario Fuori dall'area di rigore Se questo accade Il calciatore avversario Non si è avvenuto più In grado di ricevere Il passaggio E mi pare Mi pare chiaro Il confronto Avviene per il controllo Di quella casella A differenza del contrasto Questo avviene Confrontando il controllo Di entrambi i calciatori Quindi Controllo Conto controllo Se Posso posizionare Altri due calciatori Vabbè Ne mettiamo Ne mettiamo Uno Qua E uno qua Menaglie Menaglie Bravo Però qua Tiramporta C'è segna Secondo me Il buon neri O forse no O forse no Portiere più 8 Grande Allora A questo punto Direi Di Passarla Materazzi Che secondo me Nome celebre Dunque Precisione 6 Precisione 26 26 e 13 Materazzi Dalla a Majorana E Majorana Sfonda la porta Majorana Vai Majorana Buca Majorana Bravo Majorana Incredibile C'ha la faccia Da Da Pazzo fanatico Majorana Però va bene Sembra il Cervia Di Ciccio Un re di vivo Cervia Abbiamo Dunque intanto Il nostro Parma Per ora Grandissimo Sto portiere È veramente Un drago Allora Frizzi Prenditi la palla Bravo Frizzi Dalla Fontanelli Dalla Fontanelli Non ci arriva Fontanelli Allora Dalla Dalla Materazzi Di nuovo No E Diciamo Che abbiamo Un'azione Sola Mi muovo La tengo Lì Tiella Tiella Materazzi Tiella No Vabbè Non hanno più azioni Però Tocca a noi E Dovremmo Riuscire a riprendere Bravissimo Poi Dalla Majorana Che c'ha 26 Vuole far doppietta Majorana Stai da solo Majorana C'è un difensore Solo Vai Majorana Grande Majorana Bomber Majorana Beh questo Finita la partita Va Mamma mia Non voglio sapere Dove va Finita la partita Dunque Siamo sul 2 a 0 Al quarantesimo La partita dovrebbe essere Abbastanza delineata Nella nostra direzione Grande portiere Portiere è un drago Da quel che vedo Allora Gestiamo un po' Sto calcio D'angolo Ok Intanto si chiama Falco Questo qui del Mantua Forza Forza E Spero che basti Per mandarli fuori Dall'area Si Uno si L'altro Pure Ok Siamo decisamente Più tranquilli Ok Quindi la prova Di forza Si è vinta Dunque No Bravissimo Primo tempo Allora Primo tempo È andato bene Inizia Secondo tempo Uno dei giochi Di strategia Più strani Che abbia visto Nella mia vita Ma C'ha C'ha un qualcosa Di 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 Fortemente interessante Majorana Andiamo di tripla Majorana Tu che c'hai la faccia Da matto Tutto puoi Mamma mia Majorana È una sentenza Quando tira Majorana Grandissimo Sono Sono incredibilmente Stupito Da quello che sta Accadendo Con questa squadra Non ne fa Passare Una Bonci Grande Bonci Super Bonci Andiamo Sempre Di Di Marcatura Stretta Ok Bene 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 Ok Gestita la grande Dal nostro Parma Ehi Allora Aridalla a Materazzi Ormai lo schema È sempre quello Passaggio lungo Bello 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 Complimenti Santilli Frizzi Credo in te Frizzi Credo in te Bravo Frizzi Motivazione Cose che non Sì vabbè ma questo È un farto che fa falli Però Giocatore Espulso Eh Meno male Dalla Majorana Dalla Majorana Il Il Poker Majorana Vuole il Poker Majorana Vuole il Po No Stavolta Gli è uscita una Ciabattata Di proporzioni Biblica Majorana Ehm Non posso Fa niente Ha già Consumato Majorana Ma se la riprende Majorana Subito Ci marcano Tutti Strettissimi E questo Gli parte Pesante No Con molta calma E tranquillità Adesso Materazzi Gli sfonda Una gamba E Si riprende Il pallone Vai Materazzi Bravo Materazzi Tenta il tiro Da fuori Materazzi Tentalo Materazzi Tentalo No Niente Ciabattata Di Materazzi Però mi sa Che abbiamo vinto Ormai Ottantacinquesimo Prima che arrivano Un porta Bello Complimenti Per la precisione Ottantacinquesimo Più due Dai che è finita Su Non è ancora finita Lancia lungo Lancia lungo Liscio Glamoroso Vai Prendi palla Ok Bene Bene Beh direi Un 3-0 Rotondo Con aumento Di esperienza Per tutti Quindi c'è anche Qualcosa Di tendenzialmente Qualche elemento Vagamente ruolistico Tripletta Per Majorana Che ha preso Un bonus All'esperienza Santilli La faccia Da avanzo De galera Proprio Quindi c'è Un sistema Di crescita Per tutti i calciatori In base al rendimento Soldi Rendimento In partita Risultato Diferenza Redi Fa salire la fama Nuovi tifosi Zero Vabbè Non è piaciuto La tripla Del Parma Non è stata sufficiente Bene Ragazzi Io direi Per adesso Questo Football Tactics And Glory Non sembra affatto male Fatemi sapere cosa ne pensate Io vi lascio Il link Alla pagina Assieme in descrizione Fatemi sapere Se eventualmente Vorreste vedere altro Oppure se vi basta Così Detto questo Ragazzi Se l'avete provato Fatemi sapere Che ne pensate Insomma Se avete avuto modo Magari Segnalatemi qualcosa di particolare Che potrebbe essermi sfuggito E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi E noi ci vediamo